Siamo a Santa Domenica, provincia di Vibbo, qui al B&B Villa Elena in compagnia di Francesco Giusto Petrolo, che è uno dei responsabili della struttura. E mi diceva appunto, in merito alla vicenda svoltasi qualche giorno fa a Ricadi, relativa appunto alla casa privata Ciufo, che invece loro al contrario hanno addirittura richiesto la targhetta che li include nelle strutture gay friendly. Quindi ancora di più siete aperti ad accogliere chiunque e non vi fate problemi nell'accoglienza a tutto tondo. Assolutamente, abbiamo avuto negli anni molti ospiti gay e siamo contentissimi, ci siamo trovati benissimo. Come hai detto tu siamo aperti a tutti, anzi non vedo neanche il motivo di fare questa distensione, mi sembra una cosa assurda oggi come oggi. Tra l'altro noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare persone in piazza qui a Santa Domenica e tutti infatti si sono meravigliati di come ci siano ancora persone oggi nel 2017 che facciano queste discriminazioni che poi potrebbero essere non solo riguardanti le persone gay ma anche le persone disabili, le persone anziane, le persone di una religione diversa. Sì, io come ti dicevo prima non capisco queste distinzioni perché almeno io ci lavoro nel turismo, ci lavoro con le persone e la distinzione che faccio tra brave persone e cattive persone. Quindi non capisco queste distinzioni che si fanno, anzi noi non abbiamo assolutamente pregiudizi e mi sembra una cosa che è uscita fuori dal mondo proprio. Esatto, tra l'altro poi questa terra è bellissima la Calabria, fare diciamo distinzioni se una struttura è o meno accogliente in una terra del genere che invece meriterebbe di essere valorizzata perché il posto dove ci troviamo in questo momento, Ricadi, Santa Domenica, sono posti unici che anzi meritano l'attenzione della politica, l'attenzione dei cittadini più attenti come voi che invece hanno deciso di aprire un BNB sperando insomma nella rinascita della Calabria e magari situazioni del genere non fanno che... Penso che quella situazione è stata solo un'eccezione perché almeno tutte le persone che conosco non hanno di questi pregiudizi. Perfetto. Lei è stata la prima a lanciare la notizia e soprattutto a pubblicarla sui media. Io vorrei dare la possibilità a lei, dandole il microfono, di farti magari una domanda che magari sicuramente ti vorrà fare. Ti ringrazio Riccardo. Allora noi abbiamo nel calderone delle nostre iniziative una grande manifestazione insieme a questa vittima, tra virgolette, che è Massimo Arcangeli che ha prenotato su Booking a questa casa vacanza ed è stato rifiutato. In contatto con la Presidenza della Camera, con le altre istituzioni, anche i calabresi, faremo una manifestazione grande all'inizio di settembre dove faremo un dibattito, un confronto e tutto il resto per dire a gran voce che la Calabria non è omofoba. Però c'è anche in discussione una legge regionale contro l'omofobia. Secondo lei ce n'è bisogno? C'è bisogno di formazione, di fare cultura contro l'omofobia in Calabria? Guarda, non ti so rispondere, dipende dalle zone forse. Nella mia zona, come dicevo prima, penso proprio di no. Per quanto riguarda la legge, ogni legge contro l'omofobia, secondo me, ben venga. Bisogna che si faccia. Qui da noi non c'è questo problema e se farei questa manifestazione sarà nostro dovere esserci. Assolutamente, allora vi aspetteremo. Grazie, grazie Riccardo. Perfetto, a questo punto dal BNB Elena, giusto? Villa Elena, scusate per il piccolo errore. È tutto, noi ringraziamo veramente i proprietari dell'accoglienza che ci hanno dato e a questo punto vi invitiamo a venire a Ricadi, a Santa Domenica, perché non solo, non ci sono, anzi forse quello era l'unico caso di struttura probabilmente omofoba, tutte le altre sono accoglienti. Libri TV, Riccardo Cristiano, Alessia Bausone. Grazie a tutti.